Musica Viviamo il tempo dell'incertezza e della complessità, scenari geopolitici instabili, rivoluzione tecnologica e digitale che influenzano le economie mondiali. Visioni, valori, competenze, immaginando nuove imprese e il tema dell'incontro 2024 di Nielsen IQ. Musica La 39esima edizione dell'incontro, l'evento di riferimento nel mondo dell'arco consumo, che per il 2024 ha registrato oltre 900 presenze, con 644 manager e oltre 275 aziende tra industria e grande distribuzione, si è aperta con la consueta conferenza stampa dedicata ai giornalisti per fare il punto sullo scenario dei consumi nei primi mesi del 2024. Abbiamo assistito ad un andamento dei volumi che è ancora negativo, così come era stato nel 2023, sotto altri aspetti invece stiamo parlando di un mercato profondamente diverso, perché l'inflazione sta rientrando velocemente. Significa che i prezzi sono allo stesso livello dell'anno scorso, ma in realtà se approfondiamo aspetti più qualitativi siamo ancora di fronte ad un carrello che si trasforma molto velocemente. Alcune di queste trasformazioni sono legate alla richiesta di prezzo, di convenienza, quindi da parte delle aziende, altre invece richiedono maggiore qualità. La conferenza è stata l'occasione anche per presentare il nuovissimo barometro dei consumi, per misurare il giro d'affari dei prodotti del largo consumo, dei beni tecnologici e durevoli acquistati negli store in Italia. Attraverso una rilevazione di più di 80.000 punti di vendita, rileviamo appunto un mercato che nel 2023 ha chiuso a circa 190 miliardi di euro, che ricordo essere il 10% del PIL e permette di dare ai nostri partner, quindi industria e distribuzione di tutti i settori, di tutte le industrie, un punto di osservazione molto molto importante che permette di capire meglio come si stanno muovendo i consumi degli italiani. Svelare il futuro e una riflessione sulla permacrisi è stato il tema della sessione di apertura. Lo shopping online prende sempre più piede. Per esempio, vediamo che in Asia, che è una delle regioni più avanzate in termini di adozione del digitale, questo canale corrisponde al 25% del totale delle vendite che derivano dall'e-commerce. E contiamo che questo trend acceleri il proprio sviluppo. Dopo il Covid, le abitudini dei consumatori sono cambiate, gli shopper sono più orientati alla convenienza e vediamo che in Europa l'evoluzione dell'on-the-go si sta materializzando. Credo che quello che possiamo fare è del nostro meglio per affrontare le sfide, ma soprattutto assicurarci di investire tutte le nostre abilità nello sfruttare al meglio le opportunità che ci sono offerte dalla comunità scientifica. Viviamo in un mondo sempre più frammentato in cui ci sono diversi blocchi e in cui anche a livello europeo probabilmente verranno prese nei prossimi anni delle decisioni che vanno forse contro gli interessi strettamente economici delle aziende europee ma che servono per rendere l'Europa più sicura, nel senso di proteggerla dal rischio geopolitico. Io vedo all'orizzonte una situazione in cui anche l'Europa adotterà nei confronti del resto del mondo, in alcuni casi nei confronti soprattutto dei paesi in cui c'è un rischio geopolitico, delle politiche protezionistiche. Questo è qualcosa di cui le imprese devono tenere conto. Andrea Pontremoli, CEO di Dall'Ara, ha svelato come crescita e innovazione creino un legame indissolubile per le imprese. La chiave per avere crescita e innovazione sono due. Una è la competizione, direi che nel mondo del largo consumo non deve insegnare niente a nessuno. Noi la cerchiamo col motosport e la seconda chiave per l'innovazione è poter sbagliare. Quindi solo chi può sbagliare può pensare di essere innovativo, chi non può sbagliare fa solo quello che sa, quindi è conservativo. Presente anche quest'anno la Galleria delle Eccellenze che permette ai protagonisti dell'incontro di presentare le proprie novità. La mostra d'arte, marca impresa, che si propone di raccontare i protagonisti del nostro tempo, è stata quest'anno affidata allo street artist milanese Pau. Si è chiusa con una riflessione sul tempo che viene, affidata a Paolo Mieli e a Annalisa Cuzzocrea questa prima giornata dall'incontro 2024. L'appuntamento a domani. L'appuntamento a domani.